non do let podcast da veterani per patrioti questo episodio è stato realizzato grazie al supporto del nostro sponsor ardito jean distillato con onore anche perché fortuna parte poi insomma avranno guardato anche bene cosa sapevi fare quindi se tu non fossi stato in grado luca la fortuna ti apre le porte poi se tu non sei in grado di supportare il lavoro dimostrare quello che fai poi alla fine finisce lì eh luca c'è la fortuna quando abbiamo fatto le selezioni al nono a te che fortuna c'avevi che ti hanno accettato la domanda eh no eh guarda la fortuna mia io dico è l'unica cosa di non farsi mai troppo male per cui devi andare via quella è l'unica fortuna eh bravo bravo quindi tu sei stato fortunato come io come tanti altri che siamo stati fortunati che ci siamo mai fatti male sì però non è che vorrei dire grazie che sei stato fortunato che c'è stato un cursore eh no no eh sì no no chiaro chiaro è tutto là ma tu devi essere fortunato per prendere di averci l'opportunità che prima o poi capita però tutto quello che puoi dimostrare devi dimostrare tramite la tua volontà il tuo bagaglio culturale e tutto quanto se tu scrivi un libro e sei uno scrittore che ha scritto cinque libri che sono fenomenali e nessuno ti caga arriva domanda il produttore perché ha una pizza insieme e gli dà il suo libro e gli dice oh bellissimo lo pubblichiamo ah sono affortunato no sono sono affortunato anche oltre produttori ma io ho scritto cinque libri 20 anni che scrivo chiaro soprattutto in settori così particolari no come il tuo dove sai uno si può improvvisare magari attore però quando ci sono competenze tecniche con un profilo così come dire particolare non ti può inventare no puoi scimmiotare ma puoi scimmiotare per qualche minuto poi si accorgono che se non lo hai fatto veramente non c'è dietro una competenza concreta che giustifica no quello che tu insegni poi agli attori no no dura dura un attimo anche perché poi tu tu sai le persone all'inizio a volte ancora adesso che mi dice no ma veramente ma vuoi non fare addestramento no non vuoi bla 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 o ignori ho soltanto i fatti di dimostrare la gente di quello che veramente sei nel senso io senza far nomi perché comunque sia poi un business c'è una persona che qui fa dynamic shooting veloci e sembra che faccia le cose in tre secondi prende 50 bersagli però con gli dimostri che facciamo una cosa tu mi dai la pistola tua che pesa il grigletto pesa 0.04 con i proiettili caricati a niente di polvere a sparo con tutto modificato e sempre gli stessi schemi dove prendi i target e lo faccio io io poi ti do un fucile normale da combattimento e ti metto 20 kg di zale 20 kg di berraggio vediamo se fa la stessa cosa perché è una cosa che fa lo sport chiaro che sono tutti i buoni fan e soprattutto quando hai sagomesso di carta no come diceva il mio comandante di staccamento dice sono tutti bravi finché hai sagomesso di carta brava finché non ti sparano appresso comunque il discorso è questo io quello che voglio lei comunicare alla fine quello che mi importa comunicare a tutti quanti che sento sto podcast è il mondo è il vostro palcoscenico ognuno è responsabile delle scelte che fa e devi sempre pensare che quello che c'è davanti è per quello che hai combattuto e quello che tu hai ottenuto e a volte se vuoi qualcosa di più devi combattere per qualcosa di più guardare gli altri destra e sinistra e dire bla 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 parlare non ti porterà mai niente ed essere orgogliosi soprattutto noi dell'esercito delle forze speciali di quello che siamo perché ti ripeto il nono apre porte che non ha idea che possa aprire ancora oggi ancora adesso quando vado qualche produttore e dico questa è la metà del mio reggimento ancora la gente fa oh mamma mia poi il nono ti dà una cosa ragazzi che nessun altro ti dà ti dà la capacità di capire che c'è sempre il benzina vando avanti anche se tutto va tutto no si può dire perché alla fine l'iter è pubblico no c'è anche il trattamento resistenza ai interrogatori quello come dicevo in un altro episodio i muri sono due principalmente uno è il tirocinio che è quello il tirocinio di selezione e lì si vede chi ha la motivazione per entrare poi dopo c'è tutto il training quindi i corsi sì devi avere delle capacità però in realtà vieni addestrato per soddisfarle e poi c'è il trattamento e lì c'è di nuovo motivazione perché sono i due ostacoli più grossi per tutti i reggimenti delle forze speciali ora del bacino sono quei due perché sono quelli sono comuni e niente io in realtà ho visto che non ti sei fatto mancare niente perché nonostante tu fossi già laureato in Italia ti sei preso una laurea anche negli Stati Uniti sì sì l'ho presa durante il percorso in cui praticamente lavavi i piatti al ristorante che non trovavo un spocco nel mondo perché hai detto hai detto fa qualcosa ed è una cosa bellissima perché nel momento peggiore della tua vita invece di arrenderti e dire adesso vado solo a lavare i piatti hai lavato i piatti e hai continuato a studiare che è una cosa io sto prendendo una laurea ora che ho 36 anni e ora vedevo che anche te l'hai presa insomma che ne avevi già una italiana però non ti sei risparmiato ti sei rimesso a studiare tra l'altro non nella tua lingua no cioè alla fine nel momento non entro io stavo non sapevo che fare qualcosa non pentate a me poi vedo che hai avuto anche una parentesi di sicurezza privata io ho una compagnia adesso ok da Action ETL una compagnia che fa consulenza nel cinema consulenze militari per il cinema ha anche consulenze attivi adesso col governo americano ok e come sta andando così giusto per farmi gli affari tuoi? sta andando bene la parte governativa sta andando bene ti volevo chiedere solo un'altra cosa in realtà poi tutti guardano alla settima arte guardando i film americani si fanno parte un'idea sbagliata un parte secondo me il mercato italiano non aiuta perché abbiamo degli esempi terribili di produzioni che potevano essere anche buone come concetti poi i consulenti nostri non so dove li trovi fanno delle castronerie tremende adesso senza fare i nomi degli attori dei temi tu pensi che ci sia parecchio ritardo sulla come dire la cinematografia di genere quindi di genere militare ma a cosa è dovuto questo problema? non sono realistiche e non sono aggiornate politica dici? 90% ah ok quindi non si vuole vedere culturalmente ancora un contenuto di quel tipo? considera che io ho pubblicato due anni fa sui miei social media il video originale che doveva essere stato fatto presentato al 2 luglio al 2 giugno fatto da un italiano sì Paolo Ameli fatto da un italiano un produttore italiano ho pubblicato io sui miei social media perché non l'hanno pubblicato là non l'hanno pubblicato in Italia ho pubblicato io sui social media ho avuto tipo 45.000 view soltanto da l'Italia poi l'hanno censurato al gabinetto ma in Italia l'hanno censurato al gabinetto quindi perché? ma perché l'hanno censurata? perché non vanno a vedere il militare che spara? quest'anno l'hanno la parte perlomeno girata dal nono essendo una per forza armata non so se hai visto quella del 2020 in realtà c'era una parte per il goi una parte per i carabinieri e il nono faceva un recupero con nazionali andava in soccorso di un altro reparto ed era una scena un po' dinamica per i tempi italiani eppure è stato universalmente accettato poi è normale che per andare in Rai hanno preso la parte da 30 secondi dove quelle scene non si vedevano però considera una cosa tornando al discorso del cinema intanto in Italia penso che ora vogliono fare hanno ancora come dal punto di vista le soppopera come idea invece di fare un vero action movie c'è un altro discorso i soldi nel senso tu considera che un budget medio di un film medio budget e americano medio sta da 50-70 milioni di dollari uno dei più grossi film fatti in Italia forse costarà 5 milioni ogni serie televisiva che in America ogni episodio costa dei 2-3 milioni di dollari ogni episodio quindi l'enorme differenza di soldi che vengono investiti nel cinema fa sì che comunque alla fine un film drammatico lo perfetto con pochi spiccioli ma quando cominci a mettere stante effetti speciali mia azione esplosioni effetti cinematografici digitali le cifre vanno sotto a capogiro come costi quindi tu pensi che appunto loro tagliano poi sulle consulenze specifiche che fare un film d'azione costerebbe troppo e poi purtroppo ti dico anche un'altra cosa e qui ci avrò i produttori italiani che mi avranno contro ma come al solito a me non me lo devo fregare da meno non abbiamo direttori italiani che sappiano fare un film d'azione perché anche la cinematografia come usare delle riprese come usare le persone che c'è davanti non abbiamo direttori italiani che sappiano fare una cosa del genere o che siano agganciati da un punto di vista politico economico per cui gli viene data il via libera a noi farebbe piacere a noi ti dico noi come addetti ai lavori solo per una questione di veridicità perché poi tutte queste produzioni magari una persona ovviamente che non ha l'occhio clinico risultano anche accettabili poi lo vedi tu che sei un operatore e un po' ti fa tristezza perché si vedono delle palesi incompetenze quando sono guardate magari anche da qualcun altro all'estero insomma dicono guarda i film che fanno magari o associano quelle castronerie con le triggi con il montate al contrario roba del genere le associano agli operatori perché poi anche una via di comunicazione è anche quella ci fa solo un po' specie uno dei miei sogni è di riuscire il finanziamento per fare il mio film d'azione qui negli Stati Uniti a quel punto fare un boom e dire cazzo Alessandro è un nuovo attore d'azione americano e a quel punto alzare il telefono e dire ok adesso voglio i soldi per fare un film d'azione forse speciale italiane ma ce la faccio? Ah guarda noi facciamo il tifo per te anzi quando qualora si muovesse qualcosa per il tuo film personale intanto ora noi rilasceremo i tuoi contatti social se ti fa piacere così uno può venire a vedere può andare a riguardarsi tutti i film che hai fatto anche come responsabile come quando Andy McNabb aveva fatto il responsabile per le armi in It La Sfida e tu ti hai guardato It La Sfida perché Andy McNabb aveva fatto il responsabile tra l'altro penso con uno dei più bei scontri a fuochi della cinematografia moderna e noi adesso metteremo poi tutti i tuoi social così possono andare a rivedersi i film o ti vedono fisicamente o almeno sanno che tu hai partecipato io stesso sono andato a vedere l'altra sera ero con e lui mi diceva guarda adesso ho visto Polchito che faceva The Winter Soldier la serie infatti ne parlavo giusto l'altra sera di te perché poi no capita sempre l'argomento sei italiano che adesso fai film quando parliamo tra di noi la gente deve capire che c'ha che le forze speciali italiane devono essere orgogliose di quello che c'hanno che sono le forze speciali miglior preparate al mondo a OIAD esatto perché poi è una consapevolezza che uno prende solo quando va all'estero perché poi parlo personalmente in Italia ovviamente non hai un metro di riferimento con delle categorie simili sai che quello che sai fare tu sei felicissimo per tanto per quello è stato addestrato poi quando vai all'estero e vedi lavorare anche gli altri dicono effettivamente a noi non manca niente al di là come spesso si dice della disponibilità tecnologica o economica di altri paesi a livello di preparazione e contenuti umani non abbiamo niente da invidare a nessuno ma zero Luca zero 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 anzi e soprattutto adesso io poi faccio sempre il filo al bacino ma soprattutto i paragautisti e gli alpini che hanno ancora meno disponibilità molto spesso e sono in zone molto magari isolate con neanche la logistica e l'armamento la tecnologia che hanno quelli del bacino fesse loro si adattano e si prodigano ancora di più degli altri tanto di cappello ma tanto 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 di cappello ragazzi ascolta ho visto anche che in realtà hai una scuola la mia compagnia faccio addestramento anche tante comparsi attori anche fuori dal set le produzioni cinematografiche mi mandano magari uno o due attori o l'attore stesso che ha buccato una parte importante per un film un film di azione mi chiamo nel mio contatto nel mio conessandro io fra un mese devo fare questo ruolo e non ho mai tenuto un'arma a mano quindi da zero devi fare niente a Nevisilse è un mercato che funziona c'è tanta richiesta là perché in Italia moriresti di fame probabilmente invece lì c'è tanta richiesta? ogni grosso film è incapace che impiega 300 persone quindi considera che 2019 c'è stato in Atalanta 429 produzioni cinematografiche guardavo un po' e vedo che in realtà hai ruoli sempre più incisivi da stanta adesso stai iniziando a recitare fisicamente quando ti sei convertito alla recitazione pura come ti sei mosso? hai seguito una scuola oppure hai solo preso esempio dagli altri ti sei fatto consigliare è nato praticamente così ok noi abbiamo il nostro addestratore militare che a destra restante il cast abbiamo una scena particolare perché ne la facciamo per lui? quindi è nato proprio così è nato che era sono diventato lo stunt io a fare la scena senza addestrare un altro sono fatto lo stunt io dopodiché l'attore uno un attore con poca parte deve fare una cosa militare ma chiamiamo Alessandro si fa questo cioè alla fine è stata la transizione della mia capacità militare a fare quello che c'avevo senza avere un nuovo attore a destrarlo dove c'è una controfigura prendi direttamente Alessandro e ho studiato un po' di recitazione ho cominciato a studiare come tagliare l'accento italiano cominciato a studiare altre cose quindi piano piano sto bucando anche parti importanti ti volevo fare un'altra domanda che magari può essere un po' complessa nel senso chiediamo sempre le persone che ospitiamo cosa consigliano ai giovani qualora volessero intraprendere una carriera simile fino adesso è stato molto più semplice perché tra magari manager nel settore della sicurezza o della tecnologia più che consigliare una laurea specifica nel settore insomma non si è fatto o di dedicarsi magari a uno studio specifico tecnico piuttosto che un altro cosa consigli ad un giovane di lasciare stare a priori o c'è qualche consiglio che devi capire che cosa vuoi fare nel senso nel mondo se ti senti entra nel mondo del cinema devi capire che cosa vuoi fare il mondo del cinema è complesso vai dall'attore allo stante al cinematografo al direttore al regista quello che consiglio io specialmente stando in Italia è cerca di farti una vita che paga le bollette o una carriera promettente e nel contesto studia cioè vuoi diventare attore fai il tuo lavoro di tutti i giorni cioè vai a fare il camminiere vai a fare l'operaio vai a fare il dentista vai a fare lo studente vai a fare qualsiasi cosa che ti permetti di andare avanti che comunque potrebbe essere la tua carriera e nel contempo studia studia recitazione studia tutto quello che può essere legato all'arte cinematografica lo studiare lo studiare è l'unica cosa che ti può dare una mano in Italia in Italia ci sono due o tre scuole che posso promuovere che possono essere sia quella di Roma sia quella del New York Film Academy che è a Firenze io quello che suggerisco da italiano se tu vuoi lavorare nel cinema devi venire nelle Stati Uniti e se qualcuno vuol venire alla tua scuola se qualcuno vuol venire alla tua scuola basta prendere un'aere e viene alla mia scuola non è un problema basta mi contatto tramite social media che Alessandro Furchitto in Instagram o Facebook mi contattano e io li posso addestrare qua però ti dico onestamente se vuoi venire alla mia scuola per fare lo stuntman è un discorso se vuoi venire alla mia scuola per imparare e maneggiare le armi vai da Luca Monaretto chiaramente mi riferivo a quelli che magari vogliono buttarsi nella carriera da stuntman qua in Italia e valutano che magari vogliono venire in America contestualmente visto che sei lì in Italia io ho due amici miei che fanno gli stunt in Italia e uno si chiama Simone Belli e sta a Milano il fact director e un altro l'agenzia IEA Empoli Ancona stunt a Roma è una delle più grosse agenzie di stunt a Roma quindi non c'è bisogno di prendere un aereo no assolutamente ascolta ma giusto perché ci piace fare un po' di campanilismo nel tuo ambiente ci sono altri italiani e sei un po' una mosca bianca no soltanto io di solito no mi dicono tutti no ce ne sono ci sono un bel po' di italiani in realtà no nel tuo no soltanto io ci sono 4-5 attori italiani qua fra Florida Atlanta e altre cose a New York ci sono assolutamente di più ma se contano se contano se conto di l'ira ascolta Alessandro il ristorante poi si è ripreso? si 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 sta andando benissimo se capita che dai ancora una mano sei occupatissimo si a voglia io lavoro se non lavoro sul set e sto al ristorante ti pare sempre famiglia allora guarda se qualcuno capita ad Atlanta ma se mi vado a mangiare da loro ma dove vado a mangiare guarda io ci sono stato in America oggettivamente poi non sono uno di quegli italiani che amano andare all'estero per lamentarsi perché la pizza non è buona la pasta non è buona quindi non sono andato a mangiare italiano come non sono andato in Cambogia quando vado all'estero cerco di mangiare locale solo per una questione di provare cose nuove e in America effettivamente non c'è tutta questa cultura culinaria a meno che tu non sia disposto a spendere veramente delle cifre importanti diciamo che il concetto della trattoria italiana dove puoi mangiare a un prezzo accettabile un primo un secondo umano lì non c'è niente tutto qua Alessandro guarda io ti volevo ringraziare sia per il tempo che ci hai dedicato per averci raccontato un po' qualche aneddoto relativo a un settore che non è congeniale a chi effettua la transizione facciamo vanto di avere un ex militare italiano che adesso primeggia tra gli attori americani e aspettiamo finalmente un bel film realistico delle forze speciali italiane succederà Luca sono accorciuto noi lo aspettiamo non abbiamo fretta speriamo che i tempi prima o poi siano maturi giusto per avere almeno un prodotto onesto allora niente ti ringrazio nuovamente e speriamo di averti magari nuovamente ospite più avanti ma certo grazie grazie e un buon pomeriggio Alessandro ciao bello ciao ciao grazie a tutti per l'ascolto e visitate il sito del nostro sponsor www.arditogin.com non do let podcast da veterani per patrioti grazie a tutti grazie a tutti